Benvenuti, eccellenza, buonasera, buonasera Padre Santo, bene siamo qui per fare una cosa molto interessante, le presento il signor Tadeus Jones che è del nostro consiglio e il signor Gustavo Intralla che invece è di Madrid che ha curato l'aspetto tecnico Padre Santo di questo portale, lei questa foto credo che già la conosca, come conosce anche questa Cappella, adesso le facciamo, adesso puoi mettere già questo qui Padre Santo è per dare il via, ecco qui, noi siamo già fatto, quindi è stato già in linea, esatto, e poi adesso c'è Padre Santo, inviamo un Twitter, poi qui ci sarà sempre una banda che presenterà un avvenimento particolare, adesso ci sarà la giornata mondiale della gioventù, è così Padre Santo, l'abbiamo aumentato, ecco così, poi si può girare, poi dopo qui c'è l'aspetto della televisione da vedere, quindi poi qui sotto ancora, senza aumentare, ecco, ah, si può diminuire, eccolo così, qui sotto c'è invece notizie della Chiesa del Mondo, e verranno cambiate tre volte al giorno Padre Santo le notizie, il Santo Padre, poi c'è la Curia Romana e poi ci sono in un solo portale, quindi ciò che pubblica l'Osservatore Romano, ciò che pubblica l'Agenzia Fides, la Radio Vaticana, last launched, news va, praise be our Lord Jesus Christ, with my prayers and blessings, benedictus 16, allora lei deve premere qui dove c'è scritto send, con il dito Padre Santo dove c'è scritto send, non un pochino, ecco, ecco, già inviato. Grazie. Grazie. Grazie a te, grazie al Padre Santo, grazie a te, grazie a te, grazie a te. Aj polisholare. Grazie per la visione.